A tutti benvenuti e buonasera all'ipodromo del Savio di Cesena per questo secondo convegno della stagione 2020, sabato 4 luglio, aprono i gentlemen con un confronto sul miglio per cavalli di 4 anni, sono in 9 al via lo schieramento, 1 arabesque B, 2 aristide dipa, 3 ale degli ulivi, 4 apriluaisa S, 5 aspramare ama, 6 alleluia LZ, in seconda linea 7 abicaciac SM, 8 asia LL, 9 a modo mio B, corso piuttosto incerta che vede praticamente 3 punte, aristide dipa, ale degli ulivi, aspramare ama, vediamo la partenza con la velocità iniziale di aspramare ama che sopravanza tutti e passa a condurre in breve su ale degli ulivi, poi è rimasto invece un po' più lento in partenza aristide dipa, così 14,6 per i primi 200 metri con Maurizio Scala che governa la corsa con aspramare ama dopo 300 metri ha in schiena ale degli ulivi mentre aristide dipa è più indietro in questo momento, è in quinta posizione alla corda, se ne vanno i 400 in 29,1 continua a mantenere andatura sostenuta la battistrada a aspramare ama che è sempre in schiena ale degli ulivi, molto giocata in chiusura di gioco, vediamo il passaggio davanti alle tribune, situazione tattica e variata, sono praticamente tutti in fila indiana a parte aristide dipa che ha cominciato a muoversi all'esterno ma il ritmo è davvero vertiginoso perché 59 per i primi 800 metri sarà dura riuscire a ridurre il gap ora, in terza posizione rimane arabesque b mentre aristide dipa si impegna ancora all'esterno e si arriva così a un chilometro iniziale in 1,14 e mezzo con il parziale in 15,5, aristide dipa comunque generosamente si ripropone all'esterno e avvicina i primi quando siamo a 450 dalla conclusione, supera ale degli ulivi e prende sottotiro la leader aspramare ama per impegnarla sulla curva finale e dare l'impressione di passare anche molto facilmente a 250 dalla conclusione, aristide dipa passa nettamente in vantaggio, in difficoltà invece a spramare ama mentre aristide dipa si allontana sempre più in dirittura d'arrivo aristide dipa e carlo udrovic vengono a vincere questa prima corsa al savio raddoppiando il successo di ieri il secondo posto per il numero 3 di ale degli ulivi al terzo chiude di spunto asia l l 1,59 e 9, 1,14 e 9 il raguaglio conclusivo per chi vince vale a dire aristide dipa carlo udrovic che aveva chiuso favorito in chiusura di gioco vi gli diamo la nettissima affermazione di aristide dipa che pur dovendo girare costantemente all'esterno ha imposto una superiorità atletica nettissima in questa prova al secondo posto una ale degli ulivi molto positiva comunque mentre per il terzo di spunto asia l l ha avuto ragione degli avversari il successo per aristide dipa carlo udrovic training di lorenzo baldi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti